Sono 13 le persone arrestate su disposizione della Procura di Foggia all'esito dell'operazione antidroga Fortino dei Carabinieri. In 7 i soggetti finiti in carcere, 6 ai domiciliari. Per tutti le accuse sono a vario titolo di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno riguardato il periodo tra febbraio e giugno del 2020 e hanno interessato le città di San Severo, Foggia, Ortanova e Cirignola. Nello specifico sono stati 81 gli episodi di spaccio accertati dai militari. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 350 grammi di cocaina, 730 di eroina, 200 grammi di marijuana e 200 di hashish. Il blitz prende il nome Fortino dal luogo dove avveniva lo spaccio, ossia un complesso abitativo di San Severo di difficile accesso per la presenza di cancelli e ben monitorato con videocamere, videocitofoni e vedette. Le indagini, che hanno consentito anche di individuare i canali di approvvigionamento dalle sostanze spacciate, si sono articolate in servizio di osservazione, pedinamento e controllo, in attività di intercettazione telefonica e ambientale e di riscontro con conseguenti arresti in flagranza e sequestri di droga. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari allo Stato. A carico degli indagati tratti in arresto, sono stati acquisiti soltanto indizi di colpevolezza, ritenuti dal GIP, di tale gravità da legittimare l'applicazione delle misure cautelari. Gli indagati, si precisa in una nota, godono sempre della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.